Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania. Oggi voglio condividere con tutti voi una ricetta di famiglia. Voglio mostrarvi come preparare il liquore al cioccolato. Naturalmente la mia versione è senza lattosio. Gli ingredienti per preparare il liquore al cioccolato sono 70 g di cacao mare in polvere 500 g di zucchero semolato 750 g di latte intero dell'atto usato 100 g di alcol Il procedimento è molto semplice verso all'interno di una pentola dai bordi alti lo zucchero ed il cacao con un cucchiaio amalgamo le due polveri ed aggiungo il latte che deve essere a temperatura ambiente mescolo il tutto e mi trasferisco sui fornelli sempre mescolando lascio cuocere a fuoco basso io uso il fornello più piccolo continuo a mescolare ci vorranno circa 10 minuti fino a bollore lascio bollire per un paio di volte e tolgo dal fuoco e tolgo dal fuoco e tolgo dal fuoco metto a raffreddare il composto in un po' d'acqua ovviamente fredda ora che il tutto è freddo verso l'alcol mescolo per farlo insaporire come ultima operazione verso in una bottiglia di vetro con le dosi che vi ho dato si ottengono circa un litro di liquore precisamente 850 g il mio video termina qui spero vi sia piaciuto mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su condividetelo, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento vi lascio qui accanto i video precedenti e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social a presto